E andare incontro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle nuove idee, quanto di fuggire dalle vecchie. Parto da questa affermazione qua, la vita è circolare, perché credo che possa essere un buon insegnamento. Noi possiamo benissimo pensare che non sia così, cioè che la vita sia una linea retta da un punto all'altro. Ci sono moltissime filosofie, moltissime religioni invece anche che credono che la vita sia circolare. Io mi soffermo su questa affermazione perché credo che abbia anche del significato da un punto di vista dell'esperienza, da un punto di vista visivo e da un punto di vista estetico. Ovviamente io mi soffermo su questa parte qua. Credo che le esperienze che io ho fatto come imprenditore creativo tornino. ne ho già avuto la dimostrazione. Mi capita che succeda qualche cosa che è già successo otto anni fa, dieci anni fa, due anni fa. E questo è un bene perché comunque possiamo rimettere in gioco quello che abbiamo imparato ma anche migliorarci. Un'altra cosa per me molto bella è che tutto è partito da un caso. La vita è molto determinata dai casi. Un grande romanziere contemporaneo, Milan Kundera, ha diviso addirittura i casi in quattro tipologie. Il caso poetico, il caso contrapuntistico, eccetera. Però se ci pensate, tantissimi grandi o piccoli eventi determinano quello che noi facciamo, quello che noi siamo, quello che saremo, eccetera. E anche nel mio caso, nel 1996, è successa una cosa casuale. Io stavo andando al concerto di un gruppo di cui questa era cantante. E il gruppo si chiama Mesistar, lo vedremo dopo. E c'è stato un caso, come dire, di serendipity. La serendipity viene descritta come quel meccanismo per cui tu incontri delle cose molto interessanti, fondamentali, risolutive in certi casi, mentre ne stai cercando altre. Per me è successo così. La musica, fino a quel momento, per me era il sogno. E in quella sera, io andando al concerto, ho trovato un giornale, una rivista, e la mia vita è cambiata. Per cui ho trovato un'altra strada. Ecco, io ero andato per sentire Mesistar, e in quella notte, tra l'altro è il titolo di uno dei, il secondo loro disco, e ve lo consiglio ovviamente, perché è molto inspirational. E sono uscito da quella serata lì, oltre che per la passione per la musica, con una passione che poi è diventata devastante per l'editoria e per, appunto, gli Style Magazine. Cosa sono gli Style Magazine? Ma forse in parte sono anche defunti. Io qua li ho fotografati tutti ieri, velocemente in studio. Probabilmente tre o quattro li conoscete anche. Quasi tutti, molti diciamo, sono morti, però ognuno ha avuto una storia pazzesca. Il primo in alto a sinistra, Reagan, è stato un colosso di, se pensate all'informazione visiva degli anni 90, MTV, tutte le cose molto sporche, tutto è nato da lì. The Face è stato un altro mito inglese. Dazed and Confused è ancora vivo, in alto a destra. Ad Busters, voi forse non sapete che Occupy Wall Street ha origine da Kalle Lasn, che era editor-in-chief di quella rivista lì. Quasi nessuno lo sa, però quella rivista si occupava di andare contro i meccanismi delle grandi corporation. E ovviamente in mezzo ci sono tanti, tanti giornali di moda, perché stiamo parlando di Style Magazine, cioè di magazine che si occupano di stile. Però, voglio dire, nel 1997 gli Style Magazine non erano assolutamente conosciuti. Io mi sono imbattuto per caso in questa cosa, e quindi dal mondo dell'architettura sono finito nel mondo caleidoscopico degli Style Magazine. E ho pensato che non c'era un magazine italiano che si occupava di queste cose qua. Cioè mischiando, shakerando, insomma, lo stile, il lifestyle, la moda, il design, bla bla bla. Vado molto veloce perché ho molte slide, però, voglio dire, Label ha avuto questa possibilità di essere il primo, in qualche modo groundbreaking, come si dice, ha rotto un po' il terreno su questo settore qua, però l'ha fatto in un modo assolutamente diverso da tutti gli altri. Perché? Perché probabilmente volevamo sperimentare troppo. L'editoria era un settore in cui c'era fin troppo da dire, e noi eravamo comunque negli anni ancora dell'università, io e i miei soci, quindi erano anni di sperimentazione e di improvvisazione. Si sperimentava non solo nella grafica, come vedete, si sperimentava moltissimo anche nel mix di contenuti. Le cose erano messe insieme veramente in modo abbastanza psichedelico, ma non perché assumessimo droghe, ma perché cercavamo, nel senso vero del termine, di rivelare, no? Alla mente, psico, bellos, non so se è giusta l'etimologia, scusate, ma per dire che bisogna rivelare le cose alla mente. E si può anche fare con dei trick grafici, no? Qua non si vede bene per la luce, però ci sono anche delle cose che venivano fatte a livello tipografico. Stamattina con uno dei relatori si citava, wired, tutti gli esperimenti fino agli anni 90 in tipografia. Ma l'Abel è stata anche una palestra per una sperimentazione linguistica. Si parlava di immagologia, che cos'è? E l'ideologia traslata sulle immagini, cioè il potere delle immagini. Cosa che è stata definita di nuovo da Milan Kundera nel 93, ma è diventato poi uno dei neologismi più adottati, perché tutti sappiamo qual è il potere delle immagini oggigiorno. Si parlava di tecnodelia, cioè di psichedelia abbinata al saper fare, cioè le derive che potevano arrivare dal mettere insieme modi di usare anche la tecnologia in modo alternativo. Si parlava di digitudine, un altro neologismo, cioè la solitudine che deriva dall'applicazione del mondo digitale. Si parlava di dromoscopia, un neologismo di Paul Virilio, che indica come la velocità sia una delle cose che influenzano di più il nostro modo di vivere. E poi tantissime immagini. In questo caso abbiamo anticipato di sette anni il disegno della metropolitana di Torino, perché ci andava, abbiamo provato a immaginare dove sarebbero state le tre linee. Quindi lavoravamo sul territorio, lavoravamo su mettere insieme le immagini in un modo abbastanza distonico, anche con i contenuti, la matematica insieme a delle frasi. Erano anche gli anni in cui si stava formando Torino la celebre Club Culture, che poi è stato uno dei pilastri dell'evoluzione della città. Per cui c'è stata anche molta comunicazione legata a questo tipo di contenuti, contenuti musicali, eccetera. Cosa è successo? Che nel frattempo, eravamo ancora negli anni fine 90, 99, ci siamo accorti, abbiamo alzato un po' il naso, e ci siamo accorti che evidentemente qualcuno si stava accorgendo di quello che stavano facendo con Label o con Label. E questo non è un esempio. Wallpaper, un anno e mezzo dopo, dichiaratamente, ha copiato una copertina di Label. Insomma, la sperimentazione andava avanti sia nei contenuti che nella forma estetica. Questo è un elenco dei temi a cui la rivista era dedicata e come vedete si andava in grande libertà. Si andava al tema dello sgabuzzino, al tema delle regole, al tema del cambiamento, dell'ombrello, del matrimonio, del circo, eccetera. Erano tutti spunti creativi per andare in libertà sia sui temi, ovviamente a livello di scrittura, sia da un punto di vista visivo. E siamo poi arrivati però, pian piano, devo dirlo, ovviamente a dover gestire questa cosa in modo mainstream, quindi a valutare quali erano gli incassi e quali erano le uscite. Quindi la moda è diventata uno dei meccanismi, direi, il meccanismo dominante e Label, anche per questo motivo, ha avuto il suo ACME e poi la fine. Questo è stato uno degli ultimi numeri. E nel 2007 abbiamo deciso di concludere l'esperimento. Ma torno un attimo indietro all'educazione al 98, l'educazione sulla visione. Questo è un punto importante perché non si dice mai che la visione è un processo sintetico. Che cosa vuol dire? Che come il giudizio, o come il discorso, la visione si basa su una sintesi. Cioè noi vediamo ciò che siamo capaci di vedere. Impariamo da quello che vediamo per vedere altre cose. Questo significa che da un punto di vista di visual designer, di graphic designer, anche di artisti se vogliamo, c'è una grande responsabilità in gioco. Quello che noi creiamo a livello visivo, influisce e in qualche modo educa il paesaggio circostante verso quello che la gente è in grado di vedere, quello che può vedere. Quindi io credo che ci sia veramente molta responsabilità in questo. Ed è il motivo per cui nel 98, decidendo di arrivare a fondare uno studio di creatività, bellissimo, abbiamo pensato di concentrarci su questi aspetti. Cioè bisogna avere una mission in qualche modo. Va bene fare l'agenzia di pubblicità, di comunicazione, però se hai qualcosa qui, tieni, secondo me è meglio. Poi già di compromessi ce ne vogliono molti, però... Allora, il nostro è uno studio creativo che si basa, prima di tutto, sul fatto che non ci sono job title. Quindi il copywriter fa anche l'event manager e fa anche magari il correttore di bozze. Ed è giusto così. E soprattutto questo costa molta fatica con l'obiettivo di essere originali a tutti i costi. Cosa vuol dire? Picasso secondo me ha detto una grande cazzata dicendo che non si copia ma si ruba. Pessimo. Non bisogna né copiare né rubare. Mi spiace per Picasso, però non va bene. Se continuiamo a copiare, il paesaggio intorno a noi rimane bene o male lo stesso. Ogni tanto bisogna osare e fare qualcosa di più, magari anche di innovativo, se si riesce. Noi poi ci siamo fermati su questi punti, cioè avere uno stile evocativo, surreale, ironico, smetizzante. E abbiamo cercato molto spesso con i nostri lavori di portare in campo queste qualità. In quella pubblicità lì, per esempio, prendevamo un po' in giro Telecom quando si chiedeva come vorreste che fosse il futuro. Sappiamo bene che in Italia ogni tanto il congiuntivo non è proprio... Lo usino tutti e quindi ogni lavoro viene firmato con una frase diversa in cui il nome del nostro studio cambia e viene integrato, eccetera. Ma soprattutto abbiamo scelto questi due simboli, il meno e il diviso. Perché secondo noi, semplificando, quello che faccio vedere adesso vi potrà sembrare molto molto già visto. Stiamo parlando di cose che però hanno 12-13 anni, quindi secondo me il tempo un po' dovete considerarlo. Semplificando il messaggio, semplificando anche le immagini si riesce a ottenere un risultato interessante, un risultato migliore. Si vuole sfidare l'occhio e la percezione anche ad andare in direzione dove non si era mai andati. Tanto più se si riesce a farlo combinando le parole con le immagini. Ed è una cosa che si fa veramente molto poco. Voi pensate alla moda, io sono ipercritico sempre su questo. Le campagne di moda non hanno mai una frase. Niente, mettono una foto e finisce lì. Non si espongono. Perché Gucci non fa una campagna dicendo qualcosa sul suo prodotto? Niente, mette la foto e basta. Io lo trovo veramente molto limitativo, perché le altre pubblicità non sono assolutamente così. Dalle macchine, ai prodotti, qualsiasi cosa. Bisogna secondo me osare molto e non sempre lo possiamo fare. Adesso in 15 minuti è chiaro che posso far vedere il meglio di quello che abbiamo fatto. Abbiamo dovuto anche fare tanti lavori che invece non passeranno alla storia. Ecco, però quando si riesce, quando si può, a tutti i costi, bisogna essere originali. Io in questo credo fermamente e invito tutti i creativi a esserlo. Se si parla di passione e di creatività, bisogna sicuramente pensare che è importante investire in questo. Oltretutto io per certe cose sono anche un po', ecco, questo è un tentativo, scusatemi. Anche le mostre d'arte tendenzialmente, c'è il quadro di Picasso, c'è scritto Picasso e la data da a dove, fine. Allora, in questo caso, complice Doug Aitkin, che è un videoartista californiano, che ha lavorato nella pubblicità, si è riusciti a convincerlo a mettere una headline, un claim, no? Che assolutamente non c'entra niente con l'opera d'arte. Però questo ha trasformato il manifesto da semplicemente poster di una mostra a qualche cos'altro. Il motivo per cui mi sento al 100% imprenditore dell'industria creativa, cosiddetta, è solo uno, voglio dire, in questo ambito. Ho sempre reinvestito tutto quello che ho guadagnato in altri progetti. Non sempre facendo delle cose geniali, anche come scelte, voglio dire, avessi comprato una casa avrei fatto meglio. Però l'ultimo investimento è proprio del 2011, è questo progetto editoriale, e credo che in questo senso sia stato fondamentale il nostro impegno, cioè cercare di portare una nuova voce al mondo dell'editoria, al mondo dei media, di cui si parlava prima. E in questo senso c'è una sfida in corso, lo sappiamo e la possiamo testimoniare tutti i giorni da quello che si vede intorno a noi. Cioè ovviamente l'informazione è carente, l'informazione ha perso i suoi modelli di business, c'è moltissimo da fare e in questo senso credo che tutti quelli che lavorano nella creatività possano veramente dare un contributo, cercando di appena possono dare, creare qualche mezzo che aiuti a diffondere una voce che credono fondamentale. Quello che sembra molto difficile, soprattutto nella creatività, soprattutto nell'impresa creativa, gli ostacoli che sembrano più insormontabili sono spesso quelli che veramente fanno la differenza tra l'emergere e il non emergere. Lo dico anche per quelli più giovani, per cui condivido quello che ha detto uno speaker prima di me. Assolutamente pensiamo in grande e cerchiamo di sentire che la voglia di fare qualche cosa di originale deve sempre avere la meglio su qualsiasi altro tipo di scelta. Vi ringrazio. Grazie.